Luca Biancucci, direttore consorzio attività produttive di Modena, tra qualche minuto interverrò nel convegno parlando del tema della rigenerazione e della riqualificazione delle aree di smesse industriali. Su questo tema avremo e proporremo delle idee anche a livello provinciale dal punto di vista della riqualificazione di quelle che sono e per fortuna nella provincia di Modena abbiamo poche aree produttive di smesse, però soprattutto ci concentreremo anche sul tema della rigenerazione, cioè sul tema della valorizzazione delle aree esistenti, sulle quali insistono anche delle aziende importanti simili multinazionali che hanno centinaia di milioni di euro di fatturato, di export importante e che ci chiedono a questo punto non solo di occuparsi di temi urbanistici, di lizi ambientali e energetici, ma anche di capire quali possono essere i servizi materiali e immateriali che bisogna dare a queste aziende e che bisogna dare a queste aree produttive perché diventino il più possibile attraenti per nuove forme di investimento. Caterina Brancaleoni, presidente di Sipro. Sipro è l'agenzia di sviluppo della provincia di Ferrara, quindi noi siamo una società che ha come socio oltre alla provincia di Ferrara a tutti i comuni e ci occupiamo da 40 anni, quindi è una società che è stata istituita già nel 1975 di gestione di aree industriali. La nostra evoluzione nel tempo è stata diventare agenzia di sviluppo, quindi il contributo che porteremo oggi al seminario è proprio quello legato alla valorizzazione del patrimonio pubblico letto a partire dalle aree industriali ma anche ai temi dell'attrattività e alla promozione del sistema territoriale, promozione a livello regionale, nazionale e possibilmente anche internazionale. L'altro tema su cui noi stiamo lavorando e che è una delle nostre prospettive di lavoro per il futuro, credo anche con una base più ampia del nostro territorio provinciale, è proprio quello della promozione invece dei fondi che sono disponibili per gli investimenti delle imprese, quindi fondi strutturali di investimento europei, la programmazione 2014-2020, per questo abbiamo aperto una rete di sportelli presso i comuni i nostri soci e lavoriamo proprio per rafforzamento del sistema produttivo. Un altro tema è sì l'attrattività di nuove imprese, possibilmente, ma anche consolidare quelle esistenti, quindi fare quel tipo di servizi che un po' ci accomuna come strutture a sostegno del sistema produttivo esistente.